Come comitato, di cui sono portavoce insieme a Francesco Buttazzo, stiamo semplicemente chiedendo un ulteriore incontro all'amministrazione comunale affinché questi dubbi possano essere dissipati. E quanto chiedono i commercianti e residenti di Via Leuca, una delle arterie più lunghe e trafficate della città, preoccupati per l'operatività e la logistica dei lavori prospettati dal settore urbanistica di Palazzo Carafa. Da tempo riunitisi in un comitato, commercianti e residenti avanzano perplessità su alcune criticità che il progetto, così come concepito, verrebbe a determinare, rendendo addirittura peggiorativa l'attuale situazione, soprattutto in merito alla viabilità, con una via che di tutto avrebbe bisogno, tranne che diventare una zona 30. L'ingresso non può essere a 70 all'ora in accelerazione, nessuno pretende, però non deve rimanere qualcosa di separato. da uno dal quartiere, perché in Europa fanno questo tipo di interventi, ma prendono il quartiere per intero, non prendono una strada del quartiere. Questa strada è stata rifatta l'anno scorso, quindi marcia a piedi nuovi, asfalto nuovo, illuminazione nuova, quindi secondo me non ha bisogno. Potrebbero usare questi soldi per intervenire in altre zone del quartiere. Un progetto finanziato con risorse pubbliche per 7 milioni di euro, ma che resta ancora un'incognita.